Saluto all'emozione che ti ha dato, significa che questi anni che hai vissuto a Trento ti hanno lasciato tanto e la tua reazione al video è stata più eloquente di tante parole, però se riesci a riassumercelo anche... Sì, guarda, quando uno ci mette il cuore e l'anima in tutto quello che fa, poi è normale che quando vede i suoi risultati e le persone vicino che lo sostengono e che manifestano belle parole, insomma, è sempre emozionante, quindi è venuta fuori quella cosa lì, ci ho messo la passione sempre e questo ce la metterò a Perugia e quindi vivo così, se le faccio le cose le faccio bene, quindi è stato emozionante, è stato bello e ho ringraziato anche il sindaco per avermi dato questa possibilità qui.